Per la cosiddesima strage ci addolora moltissimo, sono vicende che ci addolorano e che ci motivano ancora di più ad adottare tutte le misure che stiamo cercando faticosamente di sostenere insieme ai partner europei e quelle per evitare che sia la vita delle persone afficcate alla comunità dei trafficanti e di esseri umani che in maniera così poi evidente mette una rischio alla vita delle persone. Siamo rimasti molto addolorati in una vicenda tragica che se ne è unita un'altra quasi incontemporanea che è avvenuta nel mar vicino alle coste della Libia, quasi nelle stesse ore e nelle stesse giorni. L'unica è evitare che ci siano queste partenze affidate ai trafficanti di essere umani.